Roma, i banconi del mercato di via Orvieto dovranno cessare le attività a partire dal mese di settembre. Siamo noi. I banconi dell'attuale mercato verranno rimossi. Oggi qua c'è stato soltanto voi che ci potete aiutare. Fate le primarie. Ancora questa cazzata delle primarie? Eh no. E che facciamo? Come funziona sta cosa? Amici e compagni, c'è poco tempo per definire la linea della sezione sull'imminente chiusura del mercato. Ma che il capitale Marx ha scritto 5 minuti? Ma che la rivoluzione ha fatto 5 minuti? Ma che ma... Oh, hanno capito? No. Sì. Dipende. C'è stato a pià per culo. Sì! Ricordo che stanno commettendo svariati reati. Occupazione di immobili. Occupazione di immobili. Curbamento della guida pubblica. Curbamento della guida pubblica. Milo. Ma state con noi. Perché se voi state con noi, noi stiamo con voi. Altrimenti... Siamo fagati, anziate! Allora, basta! Secondo me non finisce bene. Sveglia! Sveglia! A farci il martello di papà. Se scappate tanto poi restano. Fate un bel suicidio di massa. Morite da eroi. E quando ci ricapiti?